Ciao amici, sono Andrea di Solo Horror e vi do il benvenuto sul mio canale. Lo scorso video di questa rubrica, direi che nonostante le poche visualizzazioni, vi è piaciuto davvero tantissimo. Sono molto contento di questo e ho davvero apprezzato tutti i vostri commenti, quindi grazie di cuore. Comunque, per questo motivo, direi che è proprio il caso di continuare la rubrica più sanguinosa mai creata sul canale. Innanzitutto mi devo scusare per il cambio di location, ma non sono a casa, quindi per questo video sarà così. Se siete pronti, quindi, direi di iniziare subito. Questa volta, andando in ordine, tratteremo un caso ambientato in Piemonte. E ragazzi, sono quasi sconcertato da quanto la storia di quest'uomo sia simile a quella di Andrea Matteucci, che abbiamo visto nello scorso video. Oggi però, parliamo di Giancarlo Giudice. Anche in questo caso, non se ne sente mai parlare e infatti ho trovato pochissime fonti a cui appoggiarmi. Ma anche oggi, andiamo con ordine. Giancarlo Giudice nasce a Torino nel 1952 e anche lui deve subito affrontare un'infanzia piuttosto difficile e tormentata. Suo padre, reduce dalla campagna di Russia, è disabile e ha molti problemi di alcolismo. E ovviamente ha anche un carattere che viene definito rozzo. Insomma, un padre non proprio adatto alla crescita di un bambino. Giancarlo, invece, era molto attaccato a sua madre durante l'infanzia. Ma purtroppo per lui, quando aveva solo otto anni, quest'ultima si ammala di cuore. E nonostante la tenera età, Giancarlo provvede ad assisterla fino a quando gli è permesso. Molto presto, infatti, viene rinchiuso dentro un collegio ad Alessandria. Durante la sua permanenza lì, viene a conoscenza del fatto che, purtroppo, sua madre era passata a miglior vita. E lo viene a sapere solo dopo che il funerale era già stato celebrato. Quindi il giovane, che era molto attaccato alla figura materna, all'età di soli 13 anni, prova a togliersi la vita. Il suo tentativo, però, non ha successo. Quindi, una volta raggiunti 14 anni, suo padre va a prenderlo dal collegio e lo riporta a casa. E lì, sembra andare tutto in maniera piuttosto tranquilla. Dopo pochi mesi, però, l'uomo trova una nuova compagna. E per Giancarlo, questa è una decisione inaccettabile. Sua madre è insostituibile e lo prende come un affronto, scatenando liti sempre più frequenti e svariati episodi di violenza. A questo punto, quindi, suo padre fa l'orrenda decisione di scappare in Calabria con la nuova compagna, abbandonando suo figlio a Torino. Insomma, una breve vita dettata dalla solitudine e dalla tristezza. E ora, come se non bastasse, a tutto ciò iniziano lentamente ad aggiungersi una rabbia incontrollabile e un disprezzo indicibile nei confronti delle donne. Per lui, adesso, ogni donna che assomiglia a quella matrigna che tanto odiava, deve pagarla in qualche modo. Ora che abbiamo capito in che modo ha vissuto il giovane Giancarlo, direi che è il momento di raccontarvi velocemente ciò che invece ha fatto e vissuto durante l'età adulta. Come potete immaginare, passa l'adolescenza e i suoi vent'anni in totale solitudine, cercando di provvedere, come meglio può, al suo sostentamento. La sua vita colma solo di tristezza e rabbia. Lo porta ad iniziare a fare uso costante di alcol e droghe pesanti, come lavoro fa il camionista. E tutti i suoi colleghi lo ammirano perché era instancabile e riusciva a guidare giorno e notte, quasi costantemente. Ma come immaginerete, questo era dovuto alle sostanze eccitanti che consumava. Durante questo periodo, inizia anche a frequentare prostitute, dato che non ha nessun amico, né uomo né donna. Vive in totale solitudine e nel suo appartamento accumula riviste pornografiche e alcune armi. Come vi ho detto, ci sono pochissime informazioni su questo caso, perciò faccio fatica a raccontarvi nel dettaglio la psicologia dell'uomo. Ma nonostante questo, diciamo che vive ancora in preda ad una rabbia incontrollabile. E come sapete, qualsiasi donna che gli ricordasse la sua odiata matrigna doveva sparire, secondo lui. Andando a prostitute e dovendo, diciamo, risparmiare per via della sua condizione economica, è costretto a frequentare le donne un po' più anziane o da lui giudicate più brutte. E indovinate che gli ricordano queste donne? Esatto, la sua matrigna. Per questo, il 28 dicembre del 1983, in lui scatta qualcosa. E dopo aver consumato un rapporto con una donna di nome Francesca, decide di toglierle la vita in un modo non specificato, per poi dare fuoco ai resti e abbandonarli nel bagagliaio di una bianchina rubata. Quando le autorità fanno la macabra scoperta, il corpo è irriconoscibile. Perciò le indagini semplicemente non portano a nulla. Non mi è chiaro se avessero identificato la donna in qualche modo, ma fatto sta che Giancarlo riesce a passare inosservato per la prima volta e ci riuscirà tante, troppe altre volte. Ormai, la sua ira è scatenata ed essendo riuscito a compiere l'atto in maniera, secondo lui, perfetta, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, solo due settimane dopo, sulla superstrada di Chivasso, viene ritrovato il corpo senza vita di una donna di nome Annunziata, di 48 anni. Anche questa volta, purtroppo, nessuna traccia di un colpevole. Ma poco tempo dopo, accade qualcosa che apparentemente ci mostra il lato sensibile, se così si può chiamare, di Giancarlo. Dopo aver trovato un'altra prostituta di nome Lucia, che ovviamente si somiglia alla sua matrigna, l'uomo procede con il suo folle piano. Ma una volta puntata la pistola alla tempia e sotto minaccia, Lucia supplica a giudice di lasciarla in vita per i suoi tre figli. La donna non avrebbe sopportato lasciare da soli quei tre bambini che già faceva fatica a mantenere, e l'uomo, a quanto pare, ha pietà di lei, e decide di lasciarla andare. Anche in questo caso, quindi, vediamo una sorta di pietà verso le giovani vite che altrimenti sarebbero state abbandonate. Proprio come nel caso di Matteucci, sembra quasi che giudice, in fin dei conti, e a modo suo, avesse a cuore questo tema. Avendo vissuto un'infanzia tormentata e in solitudine, non voleva essere responsabile della solitudine di altri bambini. Ma tornando a noi, Lucia, che per fortuna si era salvata, decide di sporgere denuncia, e per questo l'uomo viene condannato a sei mesi di reclusione per lesioni. Nessuno all'epoca si immaginava che avesse tolto la vita delle persone, né poteva immaginarsi ciò che avrebbe fatto di lì a poco. Nel frattempo, comunque, passano i sei mesi di reclusione, e diciamo che Giancarlo torna alla sua solita vita. E qui, ragazzi, purtroppo ci sono sempre meno informazioni. Ma apparentemente, nel mese di aprile del 1985, torna ad uccidere di nuovo. Toglie la vita ad altre due donne, per poi gettare i loro resti nel po'. Si tratta di Addolorata, 47 anni, e Giovanna, di 64. Quest'ultima ha avuto una fine decisamente triste, poiché era costretta a fare la prostituta per mantenere il figlio disoccupato e tossicodipendente. Già così, era abbastanza triste. Ma Giancarlo diciamo che le ha voluto dare il colpo di grazia. A marzo del 1986, poi, Giudice toglie la vita anche a Maria, che stranamente non era una prostituta. Anzi, era forse la sua più cara amica. I due avevano un rapporto d'amicizia durato anni, per cui non riesco davvero a capire il motivo di questo gesto. Probabilmente ad un certo punto la donna ha iniziato a ricordargli la sua matrigna, altrimenti non me lo saprei spiegare. In questo periodo, dunque, inizia a circolare una voce molto preoccupante a Torino e nei dintorni. Pare che un ch***er di prostitute stia mietendo tantissime vittime. E queste voci erano vere. Il nostro Giancarlo aveva già fatto parlare di sé, ma purtroppo, ancora nessuno aveva idea di chi fosse il colpevole dietro alle strane morti. E la strage era tutt'altro che finita. Il 30 marzo è il turno di una donna di nome Maria, che giudice fa fuori a colpi di pistola. Dopo averle sparato, la porta in una baracca vicino alla stura e appicca il fuoco. A inizio aprile, poi, tocca ad una donna di nome Laura, anche lei ritrovata in un canale con i polsi legati da un cavo elettrico. Non era la prima volta che una delle sue vittime veniva ritrovata in quelle condizioni. La cosa più disturbante è che durante i suoi crimini Giancarlo provava piacere sessuale. Insomma, un incentivo in più per far fuori tutte le donne che gli ricordavano la matrigna. Ma comunque, il mese dopo, tocca a Clelia, stangolata e abbandonata nel suo appartamento a Torino. Questa volta l'uomo ha deciso di stordirla con alcune droghe prima di ucciderla. Un modus operandi non molto lineare, ma che culminava sempre in un'orribile perdita. E anche per questo motivo, inizialmente, le indagini non ritenevano collegati questi uccidi. Il 28 giugno dello stesso anno, poi, toglie la vita ad un'altra prostituta di nome Maria, la più giovane delle sue vittime, dato che aveva solo 37 anni. Ma questo, ragazzi, finalmente, è il giorno in cui la sua furia viene arrestata. Giancarlo viene fermato inaspettatamente dalla polizia stradale in una piazzola della Torino-Piacenza. Nei vari articoli c'è scritto che stava praticando atti o sceni solitari. Penso che stia ad indicare che si stesse masturbando da solo in macchina, ma la cosa molto disturbante è che accanto e addosso a lui era tutto pieno di sangue. Sangue che apparteneva proprio a Maria, morta da poche ore. Ovviamente, viene subito preso in custodia, ma inizialmente, la polizia attribuisce a lui solo 6 dei 9 uccidi che aveva effettivamente commesso. Complice di ciò, il fatto che quasi ogni volta agiva in maniera diversa, forse anche per depistare le indagini. Infatti, 6 donne vennero sottolate, una venne sottata, mentre altre due, colpite con un'arma da fuoco. Ma sembra non esserci nessuno schema nemmeno nel modo in cui si sbarazza dei corpi, perché 2 li dà alle fiamme, 4 li abbandona e 3 li butta in acqua. Ma, tornando a noi, sulla sua auto quel giorno vengono trovate anche due pistole, alcune munizioni e un asciugamano intriso di sangue. Giudice viene quindi finalmente arrestato con l'accusa di aver commesso 6 uccidi. Dopo un mese di carcere, però, confessa anche gli altri tre. Giudicato, capace di intendere di volere, nel marzo del 1989 viene condannato a 30 anni di reclusione più altri tre di casa di cura. Lui però avrebbe preferito essere condannato a morte. Una cosa molto interessante che vorrei condividere con voi, ragazzi, è una frase detta dall'uomo durante un interrogatorio. Con calma quasi disarmante, giudice rivela Da questa frase si può intuire come all'uomo non importasse letteralmente niente della vita di queste donne. Nessun senso di colpa o rimorso, pure questa volta. Per lui, solo il fatto che somigliassero alla matrigna era abbastanza per decidere di porre fine alla loro vita. Insomma, la sua è stata una vendetta che è costata la vita a nove persone innocenti e proprio per questo numero incredibilmente alto Giancarlo è uno dei più grandi ed efferati serial killer di tutta Italia. Un uomo che viene ricordato come il mostro di Torino. E ora sono obbligato a dirvi una cosa che sono sicuro vi farà venire i brividi. Nel 2008, dopo soli 22 anni di reclusione, quell'uomo che ha terrorizzato per mesi i torinesi è tornato in libertà. Da quel momento è protetto da segreto perciò non si sa né dove sia né cosa stia facendo. Non so voi ma io la trovo una cosa decisamente terrificante. Bene ragazzi per questo caso è tutto. Ripeto ancora una volta che è stato molto difficile reperire le informazioni anche perché i vari articoli sono spesso contraddittori e poco dettagliati perciò ho fatto del mio meglio per mettere insieme i pezzi e riproporveli in un ordine sensato almeno spero. Se per qualsiasi motivo conoscete altri dettagli non esitate a scriverli qui sotto nei commenti. Detto ciò io vi ringrazio infinitamente per la visione fatemi sapere ovviamente se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo episodio di Italia nel terrore. di Italia nel terrore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.